pronti per il tampone chi è positivo non parte pronto siamo pronti per il tamponcino facciamo il tampone dai e concentrati leo in talandia dove in talandia a vedere che colorati si è pronta ad andare a dubai si è prontissima si è ansiosa per questo primo volo intercontinentale ancora no siamo per dubai si è pronta si è pronta si è pronta si è pronta allora siamo a tre ore e mezza da dubai la signora mangia e nulla ciao leo come stai? come stai? sono contento? no di meno vedi che noi abbiamo qui è quel biscottone che si chiama come la società che ho aperto in talandia te lo mangio? si manca roba per dubai guardate le schiensine che pratica nuova veramente Grazie a tutti Vabbè come siete felici di essere arrivati a Dubai? Sì Rocco, siamo felicesse Massi vuole mangiare al negozio della Nutella Tutti contro Grazie a tutti Grazie a tutti Eccoci arrivati a Bangkok Ora ci rivoltano come un calzino Sono tutti col camice piena di pulizia Penso che ci controlleranno tutti Ciao Guarda zio Ciao Ti piacciono? Ciao 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 Leo Ciao 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 Allora c'è la cosa da venire a Bangkok? Eh sì Sì Come? No 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 Vai Leo È appena arrivato il cibo, andiamo a vedere che cosa hanno portato Ci lasciano il cibo, ci suonano e scappano Galeotti Il primo pranzo da carcerati Vediamo Vediamo cosa esce fuori Io sono emozionato È un anno e mezzo che non mangio autentico thai Ma Renato lo mangerà? Vediamo Aspetta è buono Questi li verranno presi nello street food qui sotto Questa è la mia faccia Adesso mangio e vado a dormire Arrivata la colazione Che cos'è? Che stai mangiando tu? Un brodino in salsa cinese E il maiale Un po' è molto buono Peccato che sia mattino Comunque il cibo, l'aspetto è ottimo E io invece ho noodles Con vegetali Aglioli Un po' è showers Un po' è Grazie a tutti.